Siamo qui oggi per festeggiare assieme a tutta la comunità casnighese un avvenimento per il nostro comune importantissimo. La struttura muraria della vecchia sagrestia è stata rimessa a nuovo e ci ha fatto molto piacere poter mostrare alla gente come le cose rispetto alla precedente situazione siano decisamente cambiate e cambiate in meglio. Ci piace sottolineare alle persone che vengono a visitarci in gran numero tutto quello che è stato fatto perché si rendano conto che effettivamente si tratta di un'opera importantissima ed effettivamente i contributi che sono stati dati sicuramente sono stati usati per raggiungere uno scopo che a nostro giudizio, ma abbiamo sentito che è un giudizio condiviso, è un risultato sicuramente molto significativo, importante, oserei dire splendido. Abbiamo abbassato il livello del pavimento di 40 cm per permettere di godere del cornicione cinquecentesco, abbiamo abbassato di ulteriori 40 cm per permettere di poter fare poi l'aerazione, mettere il riscaldamento a pavimento. Sono il capogruppo degli alpini di Casnigo e come alpini aderiamo anche a questa giornata pro sequestia, aderiamo come di solito fanno gli alpini con una castagnata per stare in compagnia e passare una bella giornata. Siamo qui sul sagrato davanti alla chiesetta e anche all'edificio che è chiamato il suffragio, e un sagrato che praticamente contengono le spoglie di tanti defunti della nostra comunità parrocchiale che ora ormai è in disuso. Su questo sagrato vogliamo compiere questa manifestazione, non solo per poter dare la possibilità alla gente di vedere la sagrestia nel suo aspetto murario ormai ultimato, ma anche per poter intrattenere la gente con un momento di serenità, di gioia e di felicità. Il gruppo alpini si è dato da fare per cuocere le caldarroste e per distribuirle gratuitamente a questa gente. E poi anche altri momenti di gioia come anche la degustazione di cibi particolari della nostra zona. E' un momento di ritrovo, di gioia, veramente che sottolinea il bello di stare insieme. E con questo stare insieme, fare memoria anche dei nostri predecessori che gustavano e che si rallegravano e facevano una festa con queste cose molto semplici. Dopo di aver gustato queste castagne, queste caldarroste, la possibilità di questi cibi e anche la possibilità di assistere ad uno spettacolo teatrale proprio creato in questa occasione dalla nostra compagnia teatrale di Casnigo. Vi ringrazio del cuore e di tutta la vostra attenzione e senz'altro le cose procedono e procederanno veramente bene. Grazie. L'associazione esecente e commercianti di Casnigo hanno partecipato anche a questo evento qua. Sapori d'autunno. Proponiamo delle preparazioni tipiche dei salumi, dei formaggi prodotti in zona. I vini, come al solito, sono vini del Consorzio Val Calepio. Le bottighe di Casnigo partecipano comunque sempre a questi eventi qua. contribuiranno anche loro alla realizzazione della nuova sacrestia che, vi ricordo, sarà inaugurata nei giorni di febbraio. Grazie di nuovo a tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a questa manifestazione.